Un'installazione artistica temporanea per ricordare Luigia Ferro. Lei, Federica Matuccio, nella vita è una regista cinematografica, nonché grande amica di Luigia Ferro, con la quale peraltro avete collaborato, ha collaborato. Vuole raccontarci da dove nasce l'idea di questa mostra, di questa installazione artistica temporanea, da dove appunto nasce l'ispirazione, che cosa intende raccontare dell'amica e dell'artista Luigia Ferro? Beh, l'idea nasce dal fatto di volerla ricordare, solamente da questo, non ha niente di più, niente di meno. È di voler valorizzare la sua bellezza. Infatti tutto il significato dell'installazione sta nel titolo, di effimero. Una cosa che, innanzitutto, dal significato della parola in sé, che dura un giorno solo. Quindi l'installazione durerà dalle dieci alle mezzanotte, in modo che possa essere fruita da tutti nel modo più libero e semplice possibile. E poi perché la bellezza di qualsiasi cosa, anche quella più forte, più abbagliante, come era la sua, perché era una donna veramente ricca, bella esteticamente, bella interiormente, ha necessità di essere vissuta e di essere conosciuta, soprattutto. E io così le ho voluto regalare un pezzettino di bellezza in più, è tutto qua, fondamentalmente. Le circostanze della scomparsa di Luigia Ferro sono veramente molto tragiche. Ciascuno poi vive il dolore metabolizzandolo a modo proprio. Qual è stato il suo modo di metabolizzare e semmai poi di volerlo condividere con tutti gli altri? Beh, il modo di metabolizzare una scomparsa di un'amica cara direi che è molto personale. Però io ho reagito donandole un pezzettino della mia arte, perché io so che con lei c'era un legame artistico e lei lo sa pure. Quindi questa è la cosa che io le voglio donare. Poi tutto quello che io ho sentito e provato non importa in questo momento, perché non è quello il fuoco di quello che sarà l'installazione. Qual è il ricordo di questa ragazza, di questa giovane donna artista, che aveva peraltro già pubblicato una raccolta di poesie? Sì, lei era un'artista in gamba veramente, con una personalità fortissima. Le sue poesie sono magnifiche. Non lo dico da amica, lo dico da lettrice, sì. Che l'ha letta più volte. Lei era una donna bellissima, bella proprio, cioè non si può dire niente di Luigia. Era solare, era amica di tutti, infatti. Tutti sanno chi è Luigia, perché Luigia era una persona ampia, questo posso dire, era grande. Aveva anche scritto un'opera che poi lei ha portato in scena, è diventato un'opera teatrale. Sì, però in realtà quell'opera lì è un racconto che fa parte di una raccolta che si chiama Nostra Signora dei Tarocchi, che è un'antologia di racconti, novelle, scritte da delle artiste gelesi, quindi non era l'unica a far parte. Si è scelto il suo lavoro per una questione proprio di affinità, però l'opera in sé è tutta magnifica. E il suo brano, sì, è stato fonte di ispirazione per il mio spettacolo teatrale, sì. Ricordando Luigia, dunque, l'appuntamento per poter fruire e vivere questa esperienza multisensoriale, non diciamo altro, sarà una sorpresa, dove i cittadini possono recarsi? L'installazione avrà luogo in via Marconi 14 all'angolo di via Cairoli e sarà aperta dalle 10 di mattina a mezzanotte senza interruzione. Quindi partirà e si chiuderà quando si finirà l'installazione, appunto perché l'idea è che duri un giorno e basta.